buongiorno a tutti benvenuti all'appuntamento settimanale con i webinar di crea3d io sono angelo paradiso application engineer di crea3d e oggi abbiamo con noi due ospiti docenti dell'università di catania gianluca cicale claudio tosto brevemente presento la realtà crea3d che è un ecosistema composto da diverse decisioni produttive e commerciali ma non rubo altro tempo a quella che la parte più interessante sicuramente della trattazione sui materiali compositi sulle lavorazioni di materiali compositi e lascio già la parola a gianluca cicala che si presenta e poi presente il lavoro che è stato svolto prego gianluca grazie angelo buongiorno a tutti mi presento sono gianluca cicale sono professore ordinario di scienze tecnologie materiale all'università di catania vedete nella slide anche un'immagine di claudio tosto che sta completando il suo dottorato industriale sotto la mia supervisione e il lavoro che vi presenteremo oggi sono contiene molti dei risultati di due progetti un progetto prin che coordino a livello nazionale e un progetto di dottorato che segue claudio che vedete scritto in a destra di che cosa parleremo in questa presentazione innanzitutto farò una brevissima presentazione del nostro laboratorio poi introdurrò lo stato dell'arte dei materiali usati come tooling realizzati in stampa additiva per i compositi e poi lascerò la parola a claudio per illustrare alcuni casi studio di interesse industriale e ci avveremo quindi alle conclusioni molto brevemente questo è il vedete qua riportate anche i siti e il canale youtube del nostro laboratorio come vedete un laboratorio dotato di diverse attrezzature in particolare noi essendo persone che si occupano soprattutto di materiali oltre che di tecnologia abbiamo a disposizione una linea abbastanza complessa per realizzare fili caricati e fili quindi modificati che possiamo sintetizzare noi e chiaramente poi andiamo ad utilizzare questi fili all'interno delle stampanti aperte ma abbiamo anche la possibilità di usare perché abbiamo in dotazione il laboratorio delle stampanti industriali con le quali vedrete abbiamo fatto gran parte del lavoro vedete anche che abbiamo delle stampanti a resina è proprio uno degli obiettivi di questo lavoro è stato quello di andare a capire quale materiale utilizzare per ottenere dei tooling quanto più funzionali possibili abbiamo anche diverse tecniche di disposizione di caratterizzazione e macchinari ho rapportato solamente quello più di interesse nell'ambito di questa presentazione per la manufattura di compositi in questo caso è un forno per processare compositi in autoclave su cui diremmo qualcosa di più in dettaglio successivamente andiamo quindi allo stato dell'arte allora innanzitutto in questi video che come vedete sono stati estrapolati per lo più dal sito Easy Composite che è una ditta abbastanza attiva in questo ambito vedete rappresentati alle due estremità i due approcci tradizionali per realizzare un tooling per materiale composito l'approccio tradizionale quello diciamo di in parte ma in fattura manuale prevede un taglio con CNC di alcune sezioni ma come vedete poi c'è tutta una complessa fase di assemblaggio e di rifinitura del tooling e quindi è sicuramente una procedura che a tempi lunghi è non precisissima è chiaro che esistono come si vede nell'immagine a destra anche approcci legati al taglio tradizionale in CNC ma anche in questo caso c'è lo svantaggio che dobbiamo chiaramente utilizzare molto più materiale perché partendo dal pieno come sapete andiamo a poi a tagliare solo la geometria che ci serve quindi un approccio che è sicuramente una un ottimo compromesso che sta prendendo molto piede nell'industria dei compositi è quello di utilizzare invece la stampa additiva per ottenere direttamente in Netshape la geometria dello stampo da utilizzare perché è necessario realizzare questi stampi o questi se vogliamo usare un termine più generale tooling in questa immagine ho cercato di riassumere le tre grosse categorie di tooling che sono di interesse che possono essere realizzate mediante stampa additiva un approccio è quello sicuramente dei degli stampi tradizionali quindi uno stampo su cui andare a depositare i pre impregnato i testuti secchi per realizzare il componente però c'è un uso molto massiccio nell'industria anche di dei cosiddetti tool sacrificali ovvero tool che in questo caso abbiamo riportato quelli wash out cioè quelli rimuovibili tramite solvente ma esistono anche altre tipologie che sono utilizzati per ottenere geometrie molto complesse in materiale composito esistono poi tradizionalmente dei tool per il taglio per il posizionamento ma stanno prendendo piede anche questi printed core che invece vanno a sostituire i materiali d'animo e possono come vedremo anche di integrare diverse funzionalità molto interessanti e giocando sulla geometria che poi è l'aspetto chiave chiaramente la stampa 3d è possibile anche andare a massimizzare delle proprietà meccaniche tipo la resistenza all'impatto andare a fare altre operazioni di cui faremo un piccolo esempio allora qual è la situazione attualmente se passato un po di tempo andate a guardare quello che fa strategy che strata che sicuramente un leader del settore vedete che già c'è un uno sviluppo molto massiccio di questi tool per realizzare stampi su cui andare a modellare i pre impregnati e esistono anche esempi riferiti all'ambito dei tool sacrificali che strata di sa incentivato e ha molto eh pubblicizzato quindi esiste un settore sicuramente in pieno sviluppo tuttavia ci sono anche sviluppi che lo stato dell'arte più diciamo accademico sta iniziando a riportare che sono legati ad esempio a questa applicazione però vedete un pannello eh per un eh di plano e eh in questo caso il eh turco che è l'autore di questo lavoro ha eh iniziato diciamo da confrontare l'approccio tradizionale quindi con taglio di una saguone alluminio con l'utilizzo di core material disegnati in maniera opportuna per ottenere due risultati uno quello di andare a orientare le strutture in maniera tale da resistere alla pressione quindi anche variando laddove necessario la densità della cella eh e due per eh andare a integrare del eh in questo caso un inserto realizzato anch'esso in stampa additiva di tipo metallico e andando a fare questa operazione oltre a ottenere una forma che ha una sua complessità ha dimostrato anche che è possibile ridurre gli step di assemblaggio da centotrentotto a sessantanove quindi una riduzione che incide sul tempo di manifattura di circa il cinquanta per cento. Un altro lavoro molto interessante è quello riportato in questa immagine dove è stato realizzato questo eh sistema di eh ginocchio artificiale di protesi eh andando a integrare diverse parti che è realizzata in stampa additiva in questo caso non utilizzando una stampa fila ma una stampa SLS e eh andando poi a rinforzare come necessario la parte utilizzando un tessuto in fibre di carbonio quindi è possibile ormai iniziano ad essere usati anche la stampa 3D anche per realizzazione di oggetti abbastanza complessi come questo. In questo caso un aspetto molto importante è che è possibile ottimizzare anche questa geometria andando a mettere degli elementi funzionali che possono servire per il monitoraggio o per altri scopi. Volendo quindi riassumere in un concetto quello di cui parleremo oggi è secondo me interessante iniziare a introdurre un aspetto ovvero quello del cosiddetto artigiano 4.0 nel settore dei compositi. Qua vedete nel video che scorre nel centro della slide alcune operazioni eh che richiedono eh che richiedono l'utilizzo della stampante e poi la manifattura ma eh quello che è importante dire è che dotandosi di alcune apparecchiature come possono essere lo uno scanner 3D una stampante di grandi dimensioni per poter realizzare anche stampi grandi e un eh forno quindi con un investimento complessivo che si può girare sui 30-40 mila euro è possibile portare a un livello superiore quella che tradizionalmente era una manifattura molto legata all'apporto manuale quindi questo può essere anche interessante nella prospettiva di avviare delle nuove attività chiaramente eh andando a ridurre quello che è l'apporto della skill manuale ma aumentando quella che è la capacità di integrazione delle tecnologie digitali. Perché noi come università ci siamo interessati di questi aspetti oltre all'interesse pratico? Perché ci sono ancora tanti dettagli da eh dover ottimizzare. Ad esempio in questa slide vedete riportati alcune caratteristiche eh commercializzate di Astratasys e il matching con alcune temperature di interesse nell'ambito dei compositi. Molte delle applicazioni auto-clay richiedono tempi, temperature di lavorazione a 121 gradi che bene o male si sposano bene con quelli che sono i materiali correntemente utilizzati ma se ci spostiamo su applicazioni più eh demanding e quindi con cicli a cento settantasei centottanta gradi vedete che i materiali iniziano a essere molto più scarsi quindi noi abbiamo svolto anche dei lavori per andare a cercare di coprire questo obiettivo. Inoltre c'è un aspetto molto importante se confrontiamo le i coefficienti di di dilatazione termica del materiali polimerici normalmente utilizzati in FDM con i materiali tradizionalmente utilizzati per esempio all'aluminio in ambito tooling vedete che c'è un mismatch notevole. C'è quindi necessità di comprendere bene ad esempio come questi tool dilatano per poter ottenere dei pezzi molto accurati. Inoltre un aspetto che è quello su cui Claudio si soffermerà molto è legato al fatto che come sapete se andiamo a guardare una sezione di una parte stampata a filo otteniamo parti porose e con una superficie non perfettamente rifinita. Chiaramente tutto quello che noi riusciamo a ottimizzare su questa superficie che è quella di contatto con il prepreg viene poi tradotto in un pezzo di finitura migliore ma è necessario comprendere bene la tecnologia per poter ottenere dei risultati che sono quelli voluti. Inoltre c'è tutto un ragionamento da fare sull'orientazione di stampa, i tempi di costruzione, qua vedete un confronto con la tecnica LCD che è stato il leitmotiv di quello che abbiamo fatto nel nostro lavoro per andare a capire quale tecnologia è più adatta in base al tipo di applicazione che si vuole realizzare. Non vi rubo altro tempo e lascio la parola a Claudio per illustrare i casi studio su cui si è concentrato. condivido lo schermo vedete lo schermo? si trovo ok perfetto allora cominciamo da dove il professore Cicala si è interrotto un attimino perfetto i casi studio che mostreremo oggi sono stati sviluppati all'interno del dottorato di ricerca come abbiamo detto di tipo industriale quindi coinvolgendo l'azienda in queste cose parte dell'industriale ACS sita nel terramano Tortoreto è un'azienda che si occupa di realizzare componenti compositi per clienti nell'ambito racing quindi siamo partiti da definire delle geometrie iniziali che avessero un certo livello di complessità non è del tutto difficile ma comunque in ogni caso abbiamo un foro una parte inferiore di diametro inferiore rispetto all'altra estremità e questo per permettere di rimuovere il mandrino non in una maniera immediata semplice poi ci siamo volti verso una geometria con un livello di complessità dimensionale superiore in questo caso quello che è l'asse di simmetria possiamo vedere curvo proprio per cercare di creare eventuali gomiti che creassero delle difficoltà nella rimozione successiva del mandrino stesso e infine la realizzazione di un componente di interesse industriale per l'azienda stessa che era il gol finale che volevamo ottenere cioè dire un manubrio per una mountain bike e qui vediamo anche delle parti delle difficoltà costruttive nella rimozione di tale mandrino ovviamente come abbiamo già citato le tecniche di cui ci siamo avvarsi siamo a partire dalla classica FDM passeremo alla FFF quindi utilizzando un materiale commerciale e ci siamo mossi anche con la resina fotopolimerizzante con l'LCD quindi i processi a comune in tutti i tre tipi di stampa 3D utilizzati i tre tipi di processi sono la laminazione del prepreg sul mandrino stampato in 3D e la rimozione del mandrino quindi dopo il curing è chiaro del prepreg stesso rimozione che è avvenuta in due modi o mediante una dissoluzione come vediamo a sinistra in un apposito bagno oppure andando a sfruttare quella che potrebbe essere un aspetto negativo della resina stessa cioè dire la sua fragilità e quindi mediante la rottura del mandrino stampato in lcd pertanto per quanto riguarda la prima geometria quella più semplice di tutte siamo a partire dal definire innanzitutto lo spessore dell'anforetta stessa sulla sinistra vediamo uno spessore di un millimetro non permette poi al laminatore stesso di maneggiarlo e quindi di applicarvi le pelli di composito e abbiamo scartato questa prima geometria ad altra parte sulla destra vediamo la modalità ad anfora sparse quindi con all'interno un infil onecomb e dei canali che permettessero di far fluire la soluzione di scioglimento in questo caso tale geometria a 5 bar non ha retto in autoclave ed è collassata quindi ci siamo volti ad una geometria con 2 mm di spessore in questo caso ci siamo avvarsi pertanto di un sacchetto interno espandibile poi ulteriori considerazioni si possono fare pure sull'orientamento a seconda del risparmio di materiale o meno è chiaro che il flat introduce più materiale è una difficoltà nel rimuovere eventuali supporti quindi ci siamo volti alla disposizione upright è chiaro che per questo tipo di tecnica quindi FDM proprio per una porosità intrinseca dobbiamo trattare il componente quindi mediante una abrasione manuale e poi applicando un top coat otteniamo una superficie che è possibile vedere qui in figura soddisfacente per poi applicare un distaccante e quindi poi il prepreg stesso quindi come vediamo qui le fasi a comune a tutti i processi successivamente esposti sono l'applicazione quindi il layup del prepreg il consolidamento del sacco quindi con questo sacco interno e il sacco esterno sacco interno per controbilanciare è chiaro la pressione in autoclave esterna e poi il mandrino sottoposto ad un curing di 135 gradi 5 bar e un dual time di 120 minuti per un tempo di processo di 200 minuti qui vediamo una foto dei mandrini ancora interni al pezzo poi il washout nella vasca di disciollimento in questo caso è avvenuto in circa 3 ore circa in 3 ore più o meno successivamente la stampa LCD il mandrino è stato ancora una volta laminato dopo la reticolazione questa volta però la rimozione è stata avvenuta praticamente in mediante rottura quindi in pochi secondi abbiamo ottenuto il mandrino finale quindi il composito finale che in questo caso è un composito cavo e c'è da notare anche la superficie interna quindi per eventuali applicazioni in condotti in cui il passaggio di fluido impone una scabbrezza determinata tale soluzione è quella che è stata la più soddisfacente proprio perché non è stato necessario a parte la rimozione di qualche pin una abrasione manuale quindi in questo caso anche la rugosità superficiale se si vuole tenere in considerazione tale tecnologia è stata la più indicata per quanto riguarda invece un'analisi dei tempi e dei costi notiamo come la stampa a filo sicuramente la FDM per un singolo mandrino impatta meno dal punto di vista economico parliamo di circa 39 euro al mandrino tale però soluzione noi abbiamo confrontato la Fortus, la 400 che abbiamo noi in laboratorio la LCR2 che ha uno schermo di circa 10 pollici e poi una di dimensione un po' più grande la LC Pro successivamente vedremo una stampante di dimensioni un po' più grandi la stampa LCD dov'è che vede la sua economicità sicuramente nelle grandi dimensioni nei batch che vanno in questo caso da 21 in su perché era la massima capienza nel piatto di stampa di 21 pezzi e vediamo come il tempo non è proporzionale tanto al numero di pezzi che si mettono nel piatto ma quanto all'altezza stessa del componente stesso infatti in 8 ore la LC Pro stampa sia 1 sia 6 che 21 anforette quindi sicuramente la tecnologia LCD ci ha permesso un risparmio in termini di costi e di tempi di produzione quindi quali sono diciamo la lezione appresa da queste prime considerazioni sicuramente la riduzione dei tempi in gioco la possibilità di usare questi mandrini questi prodotti per ottenere compositi in cicli eventualmente out of autoclave e quindi l'analisi dei costi che abbiamo appena visto che introduce una nuova economia nell'uso di un nuovo tipo di processo successivamente però dobbiamo tenere in considerazione le proprietà termomeccaniche del composito stesso proprio perché il processo di rimozione non è esente da effetti la possibilità di andare a introdurre materiali innovativi per usi in cicli fino a 180 gradi come diceva all'inizio il professore Cicala è un design per l'additive che permette una ottimizzazione della rimozione del mandrino stesso e infine vedremo un'applicazione sull'uso di stampanti low cost per tali tipi di applicazioni quindi per quanto riguarda le proprietà meccaniche abbiamo innanzitutto scelto una geometria box shape quindi un semplice una geometria scatolare da cui ricavare poi i campioni per flessione ora i processi che abbiamo introdotto rispetto a quello che abbiamo visto quindi il primo l'FDM lo abbiamo già indagato vediamo come processo numero due una stampa a filo di un materiale recentemente introdotto per il supporto di polimeri ad alta temperatura come PIC, PPS chiamato e nominato Aquasis 180 e poi la stampa ancora una volta mediante resina fotopolimerizzante una resina daylight in cosa differiscono sostanzialmente i tre tipi di processo oltre ovviamente alla stampa al processo di dissoluzione vediamo in rosso quindi una dissoluzione in un bagno con idrossido di sodio quindi una soluzione basica una dissoluzione in acqua o una rottura meccanica quindi dopo la stampa il curing la dissoluzione delle box shape è avvenuta in tre ore per quanto riguarda il processo in idrossido di sodio ad 85 gradi e celsius e 75% di ultrasuoni a circa 75 gradi in acqua per quanto riguarda l'acquasis e la rimozione è avvenuta per circa 30 minuti e infine l'LCD è avvenuta in due minuti la rimozione anche meno praticamente cosa abbiamo osservato poi dai test meccanici ricavati dalla geometria scatolare abbiamo osservato quello che in parte già avevamo previsto in un articolo che vedremo successivamente precedentemente pubblicato c'è dire una plasticizzazione della matrice per quanto riguarda il mandrino disciolto in FDM quindi secondo la metodologia in immersione in soluzione basica mentre un deterioramento delle proprietà meccaniche non si è osservato per quanto riguarda i mandrini provenienti da FFF e dell'LCD quindi mediante rottura meccanica piuttosto che immersione in acqua successivamente per quanto riguarda il mandrino disciolto in soluzione basica quindi del mandrino prodotto in SR100 abbiamo spedito in a Buffalo in mediante Rosler della società italiana a post process i pezzi i campioni in SR100 quindi andando a introdurre questi campioni da dover disciogliere nel loro sistema chiamato Deci in cosa consiste? Consiste nell'andare a spruzzare la soluzione di discioglimento con dei getti che quindi attraverso anche un'azione meccanica né diminuiscano quello che è il tempo di rimozione infatti il tempo è avvenuto di rimozione in 45 minuti per circa ad una temperatura di circa 65 gradi tali tale tempo di rimozione potrebbe ulteriormente essere ridotto laddove all'interno inserissimo più un nozzle cosa osserviamo e in parte avevamo già previsto nel nostro precedente lavoro pubblicato abbiamo osservato appunto come la temperatura di transizione vetrosa è affetta dal processo di discioglimento notiamo in verde e in rosso le curve di quei campioni sottoposti a 2 e 4 ore di tempi di rimozione mentre in rosa fucsia e in nero notiamo rispettivamente il campione disciolto in mediante tecnologia post process oppure il campione base notiamo come nessun decremento della temperatura di transizione vetrosa è osservato nel campione sottoposto a 45 minuti di rimozione successivamente se la slide va avanti abbiamo quindi il nostro lavoro si è proseguito andando ancora una volta laminare ed estrarre i campioni mandrini con le geometrie s-shape e in basso a destra vediamo una grafica riguardante quello che ho accennato il design volto a un'ottimizzazione dei tempi di rimozione infatti per quanto riguarda la tecnologia resin lcd questa non è esente da difficoltà proprio perché mediante rottura meccanica laddove ci sono certi gomiti questo può essere un grande limite viene un po' più complicata la rimozione quindi andando però a introdurre una come abbiamo fatto una cricca interna a spirale questa può aiutare sicuramente nella rimozione del del mandrino in tempi più rapidi successivamente l'analisi dei costi ha confermato quello che avevamo già previsto in prima battuta abbiamo questa volta considerato oltre alla Fortus per quanto riguarda il processo fdm una ultimaker s5 che abbiamo noi in laboratorio per quanto riguarda il processo fff e per quanto riguarda il processo lcd una magna che ha un piatto di circa 24 pollici come schermo alla base quindi per ogni job di stampa nella Fortus possiamo introdurre 48 pezzi 24 nella ultimaker e 56 nella lcd per dei tempi di stampa rispettivamente di 72 ore 72 ore proprio perché viaggia ad una velocità sostanzialmente dimezzata rispetto alla Fortus e 13 ore per quanto riguarda la lcd quindi per piccole produzioni la ultimaker o comunque in generale il processo fff risulta essere più conveniente rispetto alla Fortus piuttosto che alla magna mentre se vogliamo considerare 40 e 100 escono fuori da delle considerazioni poi di reale interesse industriale per quanto riguarda l'applicazione fatta in ACS le economie in questo caso in gioco escono fuori dall'applicazione del processo lcd quindi con un costo per mandrino di circa 4 euro è un costo totale quindi tiene conto sia della stampa sia della rimozione del mandrino stesso e infine un'applicazione come avevamo accenato all'inizio riguardante la stampa e la produzione poi di un manubrio per una mountain bike i cui requisiti finali era sostanzialmente andare a matchare i 135 grammi di massa finale del campione stesso quindi all'interno non potevamo lasciare alcun che dovevamo discioglierlo necessariamente e il processo di dissoluzione ci ha portato a dei tempi di circa 7-8 ore per mandrino un'applicazione riguardante un attimino l'FDM e l'LCD la possiamo vedere in grafica e abbiamo considerato una stampante di dimensioni leggermente più grande rispetto all'LCD la LCD la Magna la Maximus ha uno schermo di circa 43 pollici quindi è chiaro che le parti che possiamo introdurre all'interno di un certo volume di stampa sono maggiori e come possiamo vedere questo ci permette di stampare a nello stesso medesimo tempo in cui noi stampiamo un solo mandrino in questo caso alla metà di un manubrio a nello stesso tempo ne stampiamo circa 200 questo è il volume di stampa della della Maximus pertanto andando a ridurre quelli che sono i costi di di produzione del mandrino stesso io lascio la parola al professore Cicala e interrompo la presentazione grazie Claudio quindi come avete visto il lavoro è stato volto soprattutto a risolvere problemi pratici quindi siccome c'è ancora un po' di tempo se ci sono domande sicuramente saremo ben lieti di rispondere Gianluca c'è una domanda diciamo abbastanza generica su una tecnologia veniva richiesta la differenza tra la tecnologia LCD e le tecnologie DLP a luce e poi un'altra domanda da Andrea che ci chiedeva come mai diciamo nell'analisi sulla stampa di 1 e 21 pezzi con la stampante LCD il tempo di stampa fosse identico in realtà magari provo Gianluca a rispondere velocemente a queste due domande per quanto riguarda l'ultima domanda semplicemente la tecnologia LCD sfrutta uno schermo LCD per polimerizzare l'intero layer quindi non ho la testina della stampante che deve depositare filo o il laser che deve percorrere il percorso dell'intero layer ma ho una polimerizzazione dell'intero layer immediatamente differenza tra DLP e LCD sulla DLP ho un proiettore che va proprio a proiettare un fascio di luce sull'area di stampa chiaro che avrei notato magari Andrea che le aree di stampa delle stampante DLP sono abbastanza piccole questo perché non posso allontanarmi molto con il mio proiettore perché andrei ad avere problemi di risoluzione in termini di pixel che vengono proiettati mentre con lo schermo LCD posso avere uno schermo della grandezza pari a quello dell'area di stampa del piano quindi da questo punto di vista l'LCD mi permette di avere dei piani di stampa molto grandi la DLP no infatti le DLP si estendono in Z in cui non abbiamo questo tipo di problematiche io vedo che non ci sono altre domande per attivare la vostra chat e porci le domande potete andare nella vostra barra di controllo trovate il menu chat al centro e potete comunicare direttamente con noi vediamo magari qualche istante se qualcuno vuole provare a inviarci le vostre domande penso che se ci sono curiosità te le possono mandare poi anche offline dopo la riunione assolutamente potete contattarci direttamente non so se avete una slide di contatti da poter condividere la sto condividendo questa è la slide dei contatti allora potete contattarci diciamo a seconda delle vostre esigenze alle mail che vedete o ai numeri di telefono che vedete in questa slide io ho voluto l'occasione per ringraziare Claudio e Gianluca per la chiarezza diciamo nell'esposizione su questo argomento davvero molto interessante do a tutti appuntamento ai prossimi eventi che potete diciamo sempre seguire attraverso la pagina dell'Accademy di Create3D e se non ci sono domande io concluderei qui la la diretta ringrazio ancora Gianluca e Claudio per aver partecipato grazie a te grazie grazie a te e a tutti per aver partecipato grazie 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 a te grazie a te